Bene, inizia il campionato, inizia il nuovo campionato, ci stiamo preparando perché questa nuova stagione è stata allestita una formazione nuova, mista tra giovani e di ragazze esperte, sappiamo che la società ci ha allestito una squadra competitiva, andiamo a incontrare Torbole che sicuramente detta da tanti è una delle candidate per stare sempre là in alto, viene da una bellissima promozione, è una squadra molto esperta con delle giocatrici di categoria superiore, quindi andremo su un campo difficile, noi siamo ancora a un cantiere aperto e sicuramente non è una delle squadre migliori da incontrare adesso. Comunque ci stiamo preparando bene, ci siamo preparate bene, sentiamo un attimino da Morricconi come stanno le ragazze, come stanno vivendo la prima vigilia del campionato. Il clima è ottimo in palestra sia dentro il campo che nello spogliatoio, fisicamente ci siamo preparate molto bene e speriamo di affrontare la partita sabato con una certa qualità e con un certo atteggiamento e entusiasmo. Speriamo di uscire contente dal campo e di portare a casa, speriamo, tre punti. Quindi vi aspettiamo sabato al palazzetto Castanedolo.